Il Vangelo di questa domenica è particolarmente impressionante. Dalle stelle alle stalle, Pietro dice una cosa strepitosa, riconosce Gesù come il Messia e un minuto dopo diventerà voce di Satana e viene rimproverato apertamente. Senza ombra di dubbio, questa è la nostra potenzialità. La potenzialità di capire bene una cosa e poi forviarla nella sua interpretazione. Intendere un dato e storcerne la sua lettura. Questo è il punto. Gesù è il Cristo, secondo Pietro, cioè il Messia, ma non sarà certamente un Cristo, ovvero sia un Messia, che va a soffrire. Certamente è arrivato il Messia e questa è una storia di successo, che è stata una storia di affermazione, che è stata una storia di che tutti si convincono, tutti ci applaudono, andiamo alla grande. E invece no. E invece Gesù dovrà dire, hai capito che sono il Messia, ma non hai capito che Messia sono, ovvero sia qual è la mia forma di salvare, cos'è la salvezza. Ecco, la prima lettura parla di questa retta e, come dire, ricezione meravigliosa, questo canto del servo di Dio nel profeta Eseia che dice «Il Signore mi ha aperto l'orecchio, io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro, io ho presentato il mio dorso ai fragellatori, le mie guanci a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia, gli insulti e gli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato». Allora, cioè, qual è il punto? Siccome il Signore mi parla, io ho una capacità di stare di fronte alla realtà che non è tirarsi indietro, che non è opporre resistenza, che non è scappare, che non è sottrarsi. È interessante che c'è tutto un aspetto di atti presentati per il loro negativo, cioè non fare questo. Il Signore mi ha aperto l'orecchio, non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro, non ho sottratto la faccia, non resto svergognato, non resterò confuso e questo tipo di espressioni che sono le principali sono quelle cose per cui non è il fatto che io sia applaudito, è il fatto che io venga lodato e la mia faccia venga rispettata, che io venga confermato ciò che mi dà il rapporto con Dio. Ma siccome ho un rapporto con Dio e il Signore mi ha aperto l'orecchio e io sono entrato in relazione con Lui, ecco, io posso entrare nelle cose più nere, difficili e più paurose della vita, che poi fondamentalmente sono brutte fisicamente, sono terribili, farsi strappare la barba, essere flagellati. Si dice qui, sì, è appunto questo è terribile, ma la cosa che dà a tutto questo un colore nero e amaro è la solitudine, cioè che tutte queste persone ce l'hanno proprio con me. Ma il punto è che io ho un orecchio aperto. Allora, qual è il punto? Che noi vediamo che nel Vangelo che abbiamo in questa domenica, dove Simon Pietro sa che Gesù è il Cristo, ma questo vuol dire che non si può soffrire. Infatti Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. No, 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 non si può soffrire. Non si può essere rifiutati dagli anziani, dagli capitei sacerdoti, agli iscrivi e venire ucciso. E peraltro non si capisce il buon esito di tutto ciò, dopo tre giorni, risorgere. No, questo non deve succedere. La religione è un'assicurazione contro gli infortuni. Quante volte dobbiamo sentire cristiani che dicono «Ma che cosa ho fatto perché mi capi di questo?» Beh, veramente, se uno pensa al cristianesimo come una strada di appagamenti successi, beh, dovrebbe alzare un po' lo sguardo a un crocifisso, guardarlo. Ma è difficile che seguendo questo si stia alla grande, si stia un po' nel mondo del comfort. Tante volte proprio noi cristiani siamo dei curatori molto molto raffinati del nostro benessere e la nostra vita deve essere una serie di appagamenti. La croce, se proprio tocca, beh, ce la prendiamo, però possibilmente sarebbe meglio di no. La nostra vita non è affermare, vivere la nostra intimità con Dio anche in mezzo a una situazione di ostilità. No, è cercare di creare quanto più possibile intorno a noi consenso, nessuna contrapposizione, nessun malessere, nessuno pensi male di noi, nessuno se la prenda con noi, è controproducente e cose di questo genere. Alla fine noi discepoli di Cristo dovremmo essere dei soprammobili innocui nel mobile del mondo, cioè ci stiamo pure a noi, non diamo fastidio. Invece no, il problema è che seguire il Signore Gesù è seguirlo usando, sfruttando, assaporando la potenza di Dio nella nostra croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinnechi se stesso, cioè dica a se stesso non ti conosco, cioè si distacchi, si chiama abnegazione, la rinuncia all'amor proprio, la rinuncia alla propria assolutizzazione, rinnechi se stesso come centro della realtà. Prenda la sua croce e qui in questo prendere la croce c'è anche tutto un'attività, cioè bisogna prendere la croce, non è che ti arrivi addosso, te la prendi e così. No, la prendi, la usi, la prendi in mano, la sfrutti, c'ha qualcosa da dirti, è sorprendentemente e anche dolorosamente però sapiente, utile, finalizzata, e mi segua, dice ancora, cioè entri il rapporto con me. Tantissime volte la croce per la croce vale fino a un certo punto, la croce per seguire Cristo, allora sì, quella ha senso. Perché dovremmo ascoltare, avere questa intimità con Dio che ci permette di non salvare più la nostra vita? Perché chi salverà la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà? Perché no, il discorso è, la mia vita è poca cosa, la vita bella è quella che mi dà Dio. Qui non si tratta di avere paura di perdere la vita, noi dobbiamo avere paura di non prenderci la vita che Dio ci dà e molto spesso ce la dà per mezzo di quella strada in cui noi perdiamo la nostra. È così che funziona tante volte, è la via pasquale, la via della risurrezione che passa per la morte, perché non ho mai visto nessuno che sia risorto senza prima morire. Allora, se vogliamo la vita dei risorti, non c'è niente da fare, si tratterà qui di apprezzare anche se è amaro ciò che viviamo, quella strada in cui noi passiamo dall'aver capito semplicemente che Gesù è il Cristo a essere padroni o meglio ricettori della sua propria vita. Non solo capire che Lui è Cristo, ma averlo in noi, vivere in Lui, vivere essendo veramente discepoli. Quella condizione che è descritta dalla prima lettura, Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, non ho presentato i miei suoi fragillatori, non ho soltanto la faccia, gli insulti e gli sputi. È una condizione di libertà totale, di grande forza interiore, di meravigliosa condizione di possesso che nessuno può alienare. è quel tipo di relazione per cui la croce non mi fa più paura, è il luogo in cui io mi fido di Dio e esperimento la vita nuova. Noi tutti abbiamo da Dio il dono di qualche cosa in cui è difficile, ma ci dobbiamo fidare di Lui.